La città metropolitana nel suo ruolo di definizione che ancora deve assumere vorrei che riprendesse un assetto di sussidiarietà in interrelazione con i comuni e la regione riprendendo delle competenze che le sono proprie in una logica di governance del territorio in collegamento con gli sbocchi occupazionali potendo soddisfare le esigenze di servizio del territorio e in modo particolare per le scuole.